bella raga benvenuto un'altra volta nel mio canale di giuseppe formiglia fredda oggi voglio presentare un bellissimo progetto si chiama la il mini il mini carello il mini bangone o quello che voi volete interpretarlo come smerigliatrice e morse tutte in una poi ci vediamo un'altra volta direttamente per i saluti finali con giuseppe formiglia fredda ci vediamo dopo eccoci qua andiamo a vedere piano piano il progetto come è stato realizzato nei minimi dettagli andando come state vedendo sto facendo un 360 gradi che non mi viene manco bene che ho lo spazio limitato un 360 gradi per farvi vedere il progetto come è stato realizzato ovviamente questa è la prima morsa questa è la seconda e questa è la famosa smerigliatrice che ho messo in un bangale ovviamente di sotto vediamo se ci riesco a farvelo vedere di sotto ci sono i bulloni messi di sotto ci sono i bulloni da da 6 mm 1 e 1 2 messi qua 2 1 e 1 2 messi sempre qua e poi il il bangetto che vedete è stato rettificato con le ruote che non vedo ecco qui 2 ho messo le ruote ho rettificato con un pezzo di di compensare quello che sia di sotto per per fare le per mettere le ruote questo qua è il il famoso mini carellino ha messo anche due maniglie una qua e una qua per trasportarlo come potete vedere il carello si muove tranquillamente come voglio io come mi piace a me questo qua è il il mini banchetto smerigliatrice morse tutto in uno passo direttamente la linea a giuseppe formiga per i saluti finali ciao ciao se ovviamente il mini carello smerigliatrice e morse tutte uno ovviamente se ovviamente il video vi piace ovviamente mi piace sempre credito ovviamente i miei siti dei social network ovviamente sono sempre sotto nella descrizione ovviamente se volete commentare ovviamente c'è la base riservata sempre per i commenti ovviamente giuseppe formiga fuori da te è tutto ci vediamo al prossimo video e al prossimo progetto ciao bella rada